Continua la corsa dell'audace Ceriniola verso le zone alte della classifica. La formazione giallo-blu allenata da Michele Pazienza, dopo il prezioso pareggio ottenuto in terra campana contro la Casertana per 2-2 decisivo al 95esimo il gol di Aschic, affronta una impegnativa sfida in interna alla Monterisi domenica 31 ottobre contro la formazione dell'Enardò, che a dispetto della passata stagione si trova nelle zone basse della classifica. I neretini sono radici dalla vittoria interna ottenuta contro il Lavello per 2-1 e sinora hanno collezionato 7 punti frutto di una condizione di 2 vittorie, un pareggio e ben 5 sconfitte, mentre l'audace Ceriniola si trova con 14 punti in classifica frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Dunque per Michele Pazienza la concreta possibilità di poter centrare 3 punti importanti e continuare a battere sulla strada verso la campolista Bitonto.